Il vino è uno dei prodotti più importanti e antichi della storia dell'agricoltura. Scoperto in epoca neolitica dalla fermentazione casuale di uva dimenticata, la bevanda inizia ad avere un'ampia diffusione nell'età romana, quindi viene raffinata con varie tecniche nel corso del Medioevo, per raggiungere nel XVIII secolo il tipo di produzione moderno, in bottiglia di vetro con tappi di sughero. Da allora ad oggi i produttori, grazie al supporto dell'enologia, hanno perfezionato il gusto e la varietà del vino, raggiungendo livelli qualitativi eccezionali. La Toscana, con il suo clima temperato e la conformazione culinare, è tra le regioni che più si prestano a livello mondiale alla produzione vinicola. Il Chianti, in assoluto uno dei vini più celebri apprezzati, nasce dalla combinazione di vitigni tipici della zona di produzione. Il Sangiovese come principale, con una percentuale minima del 70%, e in quantità minore altri complementari a bacca rossa. Il risultato è un vino unico, dal carattere deciso e dal sapore armonico. Questo territorio, per la sua struttura, la sua conformazione, oltre che per la meteorologia, è un territorio che rende unico la produzione. Per il Chianti ci sono ulteriori specificazioni, che riguardano il Rufina, i Colli Fiorentini, i Montespertoli e il Montalbano, oltre naturalmente il Chianti classico. È un vino che sta subendo alcuni cambiamenti, ma che sono sicuramente dovuti a un maggior know-how dei produttori. E questo ha portato sicuramente ad incrementare la fama di questo vino, che comunque rimane sempre, insieme a Bordeaux, uno dei due nomi nel mondo storicamente più famosi. Ci sono mercati consolidati, che sono i soliti Stati Uniti, Germania, Svizzera. Per quanto riguarda i mercati nuovi, stiamo provando ad andare insieme ad altri consorsi, tutti uniti, attraverso l'egida della Camera di Commercio. La viticoltura è un'arte che richiede esperienza e conoscenze in ogni fase della complessa lavorazione, dai primi trattamenti nel periodo primaverile, durante lo sboccio delle viti, alla vendemmia di fine settembre, quando i grappoli vengono deraspati e spremuti. Il mosto d'uva, così ottenuto, inizia la fermentazione che trasforma gli zuccheri in alcol e che fa diventare il mosto stesso vino. Dopo alcuni giorni inizia la svinatura, cioè i resti delle bucce e dei raspi vengono separati dal vino che inizia così la sua maturazione, eventualmente anche in botti di legno. La vendemmia normalmente incomincia alla fine di settembre, risalvo negli anni in cui è particolarmente siccitoso e viene fatta a mano, nella stragrande maggioranza dei casi, in modo da poter scartare le uve che non sono adatte per fare una selezione. Qualità significa anche competenza e cura, per questo la produzione del Chianti, come tutti i prodotti a denominazione di origine, è regolamentata dal disciplinare di produzione che stabilisce le regole. Per poter ottenere il marchio DOCG, DOC o DOP, il vino deve essere sottoposto a controlli chimico-fisici e quindi organolettici, che sono volti a verificare la conformità con il disciplinare di produzione. Il nostro compito è quello di affiancare le aziende per mantenere elevati gli standard qualitativi. Ogni campione che viene presentato per l'analisi, se ottiene l'idoneità chimico-fisica, può passare alla seconda fase, che è quella dell'analisi organolettica. Le non-idoneità non sono molte, sono abbastanza rari, e questo negli anni è andato sempre migliorando, segno che le aziende hanno posto come obiettivo quello di migliorare la qualità produttiva. Il termine vino deriva dal verbo sanscritto vena, che significa amare, da cui poi è derivato Venus, in latino la dea dell'amore, Venere. Probabilmente il nomen omen, perché abbiamo visto di recente come effettivamente il vino possa aumentare le capacità amatorie, in quanto ci sono sostanze, come il resvenatrolo, che ha la capacità di aumentare la produzione di ossido nitrio, quindi ha un effetto simile al sildenafil, la molecola principale del Viagra. Oltre a questa capacità, il resvenatrolo può inibire l'aggregazione plastrinica e aumentare il livello di colesterolo HDL, il colesterolo buono, quindi ha un'attività preventiva per i rischi cardiovascolari. Come tutti i folifenoli, il resveratrolo si trova principalmente nella buccia e nei raspi dell'uva. Questo ci fa capire come mai il vino rosso ha qualità benefiche maggiori rispetto al vino bianco. Un altro componente, un'attività antiossidante presente nel vino e anche nell'olio extravergine d'oliva è il tirosolo, che ha gli stessi effetti benefici del resveratrolo. In conclusione, il vino è ricco di sostanze benefiche che possono essere un valido scudo contro malattie cardiovascolari e alcuni tipi di tumori. Poche semplici indicazioni su come degustare un nostro chianti e cosa chiedere per avere una piacevole serata nelle nostre osterie, nelle nostre trattorie. Non cercare colori troppo concentrati, ma tendenzialmente il chianti, il sangiovese, anche quando ha qualche anno di invecchiamento, tende ad avere dei flessi aranciali. E quanto al gusto, il chianti è un vino che nasce per degustare, assaggiare e mangiare la cucina toscana, la cucina generale. Quindi deve essere comunque un vino abbastanza tannico e abbastanza acido. Cercare comunque una beva piacevole e profumi immediati e semplici alla fine. Con il rosso del chianti si possono fare le seguenti ricette maialina all'agrodolce, lo stracotto di Caterina De Medici, una salsa al vino per i formaggi e per i dolci tipo la panna cotta e una salsa per la schiacciata con l'uva. Infine il risotto al vino rosso. Gli ingredienti per il risotto al vino sono la cipolla, il radicchio rosso, l'olio extravergine d'oliva, la salsiccia, il vino rosso chianti, l'uva che serve per fare il vino e il brodo vegetale, naturalmente il riso. In una padella abbastanza grande si mette dell'olio extravergine di oliva, si taglia la cipolla a fettine, si aggiunge il radicchio rosso, si aggiunge la salsiccia e si fa andare fino a imbiondire. Si aggiunge poi un goccio di vino rosso, si fa andare ancora, si fa evaporare il vino. Quando il vino è evaporato si aggiunge il riso, si fa mantecare, si aggiunge ancora un bicchiere di vino rosso, dopodiché man mano che va avanti la cottura si aggiunge il brodo vegetale, sale e pepe quanto basta. Questo risotto si serve aggiungendo dei chicchi d'uva che servono sia a bellire il piatto e anche a dare un gusto particolare alla ricetta. Grazie a tutti.